20 settembre 2017 il Mirafiori Motor Village diventa teatro della presentazione ufficiale della stagione 2017-2018 della Fiat Torino. L'eccellenza del basket e l'eccellenza dell'automotive torinese ancora una volta insieme per un anno che si preannuncia ricco di emozioni. Sicuramente un brand prestigiosissimo che non fa altro che creare noi un ulteriore senso di responsabilità. A convincerci è stata la passione di questa dirigenza, di questa proprietà, e poi sicuramente un'aggiunta considerevole è il fatto di portare sul petto questo marchio, sull'uniforme, un marchio che noi vogliamo valorizzare sia a livello nazionale che a livello continentale. A noi piace il basket perché il basket non è solo il secondo sport più visto in Italia ma anche lo sport più frequentato dalle famiglie. Le famiglie rappresentano il nostro target di cliente per eccellenza. Noi fabbrichiamo macchine per famiglia e vendiamo macchine per famiglia. Quello è un contesto in cui ci troviamo particolarmente a nostro agio. Quando si parla di Torino vogliamo entrare in campo in prima persona e per questo tanta energia e tanto estusiasmo in questo progetto in cui crediamo tantissimo e quindi tutto il supporto necessario al progetto del presidente Forni. Siamo consapevoli quest'anno di aver fatto il salto di qualità. Siamo cosci di avere un roster competitivo, lo staff tecnico all'altezza, abbiamo rinforzato lo staff medico, non abbiamo trascurato nessun particolare. Per il resto la situazione è di primo livello della società, quindi abbiamo fatto il possibile per prepararci a una stagione di gran livello. Grazie a tutti.